M-O-N-S-T-E-R Monsters, Monsters, yes we are! Ehi, Frank has got me falling apart Uh, Draghi Laurel is stealing my heart Cloudy and Wolf, you make me hell out of the moon I'm gonna give you a final smash in this lagoon I feel the now, you so beguile Even though you act so vile Oh, and Deuce has Stone Cold style These are my boobs, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too? Ciao, Rebecca! Che ci fai con tutte quelle cianfrusaglie antiche? Non sono cianfrusaglie, sono i miei strumenti per studiare Non puoi fare i compiti con quella vecchia macchina da scrivere Tieni, usa il mio computer O il mio tablet Il mio tablet Vi ringrazio, ma preferisco procedere con gli strumenti tradizionali Ma non è tipo molto più faticoso studiare così? Io invece lo trovo molto più gratificante Cosa? Perché non provate? Non credo più 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 Pazzesco È il progetto di Guglia per scienze Piega un po' È tipo qualcosa che ha a che fare con le pulsazioni elettromagnetiche O roba del genere E ho il compito di non fare avvicinare nessuno Specialmente te Odio questo periodo dell'anno Sono tutti così presi dai loro progetti Che nessuno presta alcuna attenzione a me Come dici? Ma certo, non farò avvicinare nessuno Tranquilla Per tutti i vampiri, raccontami Voglio che mi racconti tutto, ma proprio tutto Dire a me che non devo avvicinarmi Insomma Di che cosa hanno paura? Eh? Che succede? Il mio computer non funziona più Non potrò finire il tema Il compito di biologia marina Penso di potervi aiutare Non è pericoloso? Io preferisco I pipistralli viaggiatori Sono veloci come una mail Puoi usarlo come la tua calcolatrice da urlo Ma secondo me è molto più divertente Davvero molto gentile, Rebecca Che portata Spero di avervi dimostrato Che non bisogna essere così dipendenti dalla tecnologia Devo controllare le mail Ragazzi, dove andate? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti